Tra le variegate esperienze che l'esistenza temporale offre alla riflessione di chi non sia contenta di vivere superficialmente c'è quella del dolore, indesiderato e temuto intruso nel normale cammino evolutivo cui nessuno può sottrarsi. È una dimensione della realtà che paradossalmente costringe a cercare motivazioni profonde riguardo il senso della vita, apprezzando alla massima potenza il valore della salute compromessa, alimentare con la speranza di soluzione la consapevolezza della propria fede nell'ultrasensibile. La partecipazione ai pellegrinaggi verso i luoghi sacri offre l'opportunità a quanti hanno maturato una coscienza umanamente evoluta di alimentare la fede a prescindere dalla sofferenza e trovare soprattutto risposta al drammatico quesito riguardo la sua inevitabile presenza. Questo, considerata la diffusa superficialità nella gestione dell'esistenza quotidiana, è quanto si può dire fatto miracoloso. Normalmente si pensa che la sofferenza sia una componente necessaria della vita. In realtà non è proprio così, perché anche Gesù ci ha insegnato che vivere in Lui, vivere nella fede, addirittura da speranza, da gioia. La sofferenza quindi potrebbe essere considerata come una componente indesiderata della vita e anche evitabile della vita. Quando poi ci caschiamo evidentemente anche questa deve essere presa in un certo modo, attribuendo alla sofferenza un valore, non vivendola dal punto di vista della disperazione. Unità si è nata in Italia nel 1903 da una follia. Un nobile romano che apparteneva alla buona nobiltà romana, soffriva di una grave forma di artrite ed era quindi in una carrozzina, era stato fra virgolette costretto ad andare a Lourdes perché doveva offrire la sua sofferenza al Signore. Lui era molto arrabbiato invece con il Padre Eterno perché a vent'anni, nel periodo più florido della vita, si ritrovava inchiodato su una carrozzina e i suoi coetani potevano invece vivere una vita normale. Ha accettato di andare a Lourdes ma per fare un gesto clamoroso, uccidersi sotto la grotta. Nel viaggio a Lourdes, nei treni che allora non erano certo confortevoli, erano treni con le panchine di legno, erano treni senza aria condizionata, lui è arrivato a Lourdes e ha visto un clima di preghiera ma soprattutto un clima di aiuto vicendevole dove c'erano delle altre persone che non erano familiari, che non erano amici ma che si prestavano per aiutare chi come lui era in difficoltà. Allora quando è arrivato sotto la grotta, la pistola l'ha tirata fuori, l'ha consegnata al sacerdote che lo accompagnava e gli ha detto io da oggi in poi mi impegnerò perché altre persone come me riescano a venire qui. E qui è nata Unitalsi, da un mancato suicidio è nata l'Unitalsi. Anche noi ci occupiamo, nello spirito del nostro fondatore Gian Battista Tomasi, di accompagnare chi non riesce ad andare da solo nei santuari mariani. Unitalsi non è solo Lourdes, Unitalsi è anche Terra Santa, è anche Fatima, è anche Loreto, ma è anche una pizza insieme, un gelato insieme, una condivisione di una cerimonia. Siamo molto presenti anche a livello diocesano che nella nostra diocesi abbiamo un bellissimo rapporto con la comunità diocesana, con il nostro vescovo che ha condiviso l'esperienza del pellegrinaggio con noi l'anno scorso e quindi siamo presenti nelle parrocchie sempre con lo stesso spirito, di accompagnare le persone dove non potrebbero arrivare. Noi ci facciamo gambe, piedi, mani, occhi di chi non ce la può fare, in uno spirito assolutamente familiare e di condivisione di quello che è la sofferenza. Noi abbiamo scelto questa, ci siamo sentiti chiamati a fare questo, di prestare le nostre abilità a chi non le può avere, ma anche ricevere tanto da queste persone. E non è solo la bella storia di chi più si dona e più si riceve, ma è qualcosa che noi sentiamo veramente nostro. Con noi vengono persone che conosciamo anche per la prima volta e che poi diventano nostri compagni di viaggio. Non ci sono legami particolari prima del pellegrinaggio, ma durante e dopo il pellegrinaggio diventiamo familiari, noi con loro e loro con noi. Si crea questo clima di aiuto reciproco che ci mette tutti sullo stesso piano. Non ci sono volontari e ammalati, ci sono delle persone che decidono di fare un cammino, un percorso insieme alla Casa di Maria. Un'altra caratteristica molto importante dell'Unitalsi è che i nostri viaggi sono condivisi anche da pellegrini, da persone che scelgono di viaggiare con noi, con le difficoltà anche con cui viaggiamo noi, con i nostri tempi che non sono i tempi dei viaggi normali, perché noi viaggiamo alla velocità del più lento, in un mondo che corre, noi facciamo questo. I nostri pellegrini condividono con noi, perché anche loro beneficiano di questo clima sereno che si instaura, perché la sofferenza insegna. A noi è insegnato molto e ci sta continuando ad insegnare. Ci insegna ad affrontare la vita di tutti i giorni, ci insegna ad andare avanti sempre e comunque con uno spirito nuovo e ci fa conoscere amici nuovi. La sofferenza prima o poi bussa alle porte di tutti, non esiste la differenza a malati, volontari, pellegrini. Il mondo è così, la nostra vita è così, ne dobbiamo prendere atto. Ecco che allora in Unitalsi troviamo proprio il modo per affrontare quello che agli occhi del mondo non è affrontabile o a volte è anche inspiegabile. Il pratico realismo con cui si tenta di comprendere il tema ci spinge anche ad analizzare situazioni diverse da quelle immediatamente individuabili nei casi di inabilità o malattia. Situazioni che a vari livelli appartengono a ogni esperienza umana e spesso sono necessarie alla crescita se potenziano la capacità di compatire. Potremmo anche distinguere fra il dolore, la sofferenza quindi sul piano fisico, e una sofferenza diversa che è più spirituale. La sofferenza sul piano fisico potrebbe anche essere tranquillamente evitabile da parte dell'uomo. La sofferenza invece sul piano spirituale è una cosa diversa. In che senso? Ogni cammino evolutivo, comporta sofferenza, comporta dolore. Sul piano chiaramente spirituale. Perché? Ma perché quando si cresce si è costretti ad abbandonare quel mondo di certezze che si è costruito a un certo livello. Chiaramente saltando il gradino di qualità si lasciano quelle certezze e bisogna acquisire di nuove e questo porta sofferenza decisamente. Questo tipo di sofferenza è fortemente evolutivo. E solo questo tipo di sofferenza è necessario a loro. Quell'altro no. Per cui soffrire per forza perché questo porta a crescita è un errore. Accettare la sofferenza perché porta a crescita, questo invece è corretto. è facilmente intuibile come la salute fisica, bene e primario, non debba venire comunque considerato bene assoluto e indispensabile alla vita, che si manifesta ben oltre il limite delle percezioni sensoriali. Per comprendere l'enigma della sofferenza può senz'altro aiutare il confronto culturale e religioso con le diverse tradizioni nel mondo che da prospettive diverse elaborano da secoli la tematica in questione. Se guardiamo come nel nostro mondo si combattono le malattie, abbiamo un po' chiarezza su quello che abbiamo detto. Noi combattiamo la malattia dando contro anche con le medicine. Cioè noi prendiamo delle sostanze che dovrebbero mettere in moto dei processi di guarigione e creiamo degli ulteriori danni perché tutte le medicine hanno degli effetti collaterali. L'orientale tende invece a risolvere il problema della sofferenza in maniera globale. Cioè quello che combatte la sofferenza è il modo in cui si deve vivere. È vero che allora avevano delle conoscenze sul piano scientifico decisamente inferiore alle nostre, non si parlava nemmeno all'ora di medicine. Erano dei rimedi abbastanza così generali. Però molto aiutava nell'affrontare anche la malattia, oltre alle sofferenze di tipo evolutivo, proprio prendendole come un qualche cosa che nella vita può servire proprio per fare un passo avanti. Cristo è venuto nel nostro mondo per guarire e faceva miracoli. Dobbiamo pensare che chi va all'Urds spera nel miracolo della guarigione? I miracoli come guarigioni inspiegabili sono molti all'Urds, alcuni anche riconosciuti dall'autorità medica e religiosa. Ma non è questo il punto. Il malatto a Lourdes viene accompagnato per un'esperienza spirituale e molto spesso, lo diciamo sempre, il miracolo consiste nella serenità interiore che molti li ritrovano. Direi che da questo punto di vista è molto importante la rete di relazioni che durante il pellegrinaggio si estende e in particolare direi l'unità, sì, loro sono perfino stufi probabilmente di sentirlo, ha il carisma di accompagnare i malati, non semplicemente di trasportarli nei luoghi di pellegrinaggio e a Lourdes in particolare, ma di accompagnarli. Ogni volontario si mette in una relazione significativa con una persona malata, una persona comunque in difficoltà. L'aiuta per tutto il cammino del pellegrinaggio è per raggiungere quella grotta, nel caso di Lourdes, in cui tante speranze sono riposte. Accompagnare vuol dire stare vicino e credo che questo carisma poi debba essere vissuto anche all'interno delle comunità cristiane, delle nostre comunità cristiane. L'unità si ci insegna ad accompagnare, a farsi prossimo, a farsi vicino e questo poi è il miracolo della solidarietà che è dono che viene da Dio ed è anche impegno della persona che vuole vivere autenticamente il Vangelo.